Il fattore Braia dovrà essere fondamentale per ribaltare la situazione e l'esperienza del tecnico toscano sarà determinante nei 90 minuti che decideranno la stagione dei Lupi. 23 incontri disputati negli spareggi e il tredicesimo successo da rincorrere per far sognare il popolo bianco-verde. Il trainer Di Grosseto non ha alcuna voglia di fallire e quindi con il suo Avellino cercherà di riscattarsi contro il Palermo sfruttando il fattore campo, provando a toccare le corde giuste dei suoi calciatori perché lui, il tecnico più anziano dell'AC con i suoi 66 anni, vuole provare a conquistare la sesta promozione in cadetteria, cosa che ci ha tenuto a sottolineare ad inizio stagione prima di chiudere la sua carriera. Dovrà trasmettere la sua grinta, il suo carattere ai giocatori per ribaltare l'1-0 dell'andata. Ci vorrà una prova maiuscola della squadra come quella offerta a Castellammare, a Torre del Greco o quella in casa contro il Bari. E lo stesso spera Gaeta Noteri, altro veterano della categoria, che con il suo Bari dovrà ribaltare l'1-0 subito in casa della Feralpi Salò.